Musica Stefano Curcuruto, questa sera questa villetta vive di bambini, di ragazzi, di attività ludiche ed è un piacere, ci dica due parole su questo Vabbè oggi i bambini sono veramente protagonisti, lo sono stati durante tutta questa estate creando un percorso di cittadinanza attiva all'interno dell'estateventura dove hanno realizzato dei giochi o ripristinato i giochi che già c'erano rotti in questa villetta il significato era quello di dare al quartiere vita a questa villetta come polmone verde, vita per i bambini hanno ridato vita a questo spazio, questo spazio che serviva, che serve per far sì che questa villetta possa ritornare un luogo di aggregazione sociale, un luogo di aggregazione spontanea con due step, il primo step è stato il Gariglia Garden avviato con la putia del bene comune, la pulizia il secondo step è stato attraverso questi bambini che hanno costruito questi giochi hanno sentito questo luogo come casa loro, lo hanno ripulito nuovamente hanno raccolto insieme a noi bottiglie, cartacce che giornalmente vi erano è un posto che serve a loro per sfocarsi, per giocarsi in una città dove manca il verde